Bella ragazzi! Bella ragazzi! Questa sera vi faremo vedere come aprire un lucchetto senza usare le chiavi. Allora, dobbiamo innanzitutto premettere che questo non è un video dove vi insegniamo a scassinare qualche cosa, anche perché un ladro normalmente utilizza strumenti del genere e di certo non sta a maneggiare la vostra serratura per cercare di aprirla nel modo meno dannoso possibile. Utilizza un piede di porco, può utilizzare una spranga di ferro, può utilizzare due chiavi e fare forza per aprire il lucchetto, può utilizzare un martello. Ci sono mille modi per aprire un lucchetto in modo distruttivo. Allora, questo qui è un kit della Southord che veniva venduto solamente anni fa, solamente ai fabbri, a chi aveva dei negozi di ferramenta, a chi era un professionista di questo tipo di lavoro. E negli anni successivi è diventato praticamente uno sport, chiamato appunto Lock Sport. E' composto da una serie di attrezzi, così chiamati anche Grimaldelli, che hanno diverse forme. E ognuno di esso ha una funzione specifica. Possiamo subito distinguere questi che sono fatti ad L, che si chiamano tensori. E poi qui abbiamo degli altri gruppi di Grimaldelli che hanno funzioni specifiche. Quindi questi li raggruppiamo qui e tutti questi altri li mettiamo qua. E ora spiegheremo anche poi come utilizzarli. Questo qui e questi qui. Cominciamo a parlare della serratura e del suo funzionamento. Allora, la serratura al suo interno è fatta in questo modo. E' composta da tanti cilindretti di ottone. Per ogni foro di questi ci sono due cilindretti e vengono tenuti premuti verso il basso da una molla. In questo modo qui, solamente quando ci sarà la chiave giusta, visto che questi hanno tutte lunghezze differenti, solamente quando sarà inserita la chiave giusta, tutti questi accoppiamenti di cilindretti saranno allineati e sarà possibile quindi ruotare la chiave per aprire la serratura. Su cosa si basa questa tecnica che si chiama lock picking? Si basa su difetti che hanno tutte le serrature al mondo. Proprio perché questi cilindretti dovendo scorrere hanno una tolleranza, quindi questo cilindretto sarà magari qualche centesimo di millimetro più piccolo del foro. e appunto devono permettere una certa scorrevolezza. Per cui, quando praticamente utilizzeremo questa tecnica, sfrutteremo appunto queste tolleranze per fare questo tipo di lavoro qui. Vedete questo cilindretto che è lievemente ruotato. Il tensore ci serve in questa posizione qui per tenere ruotata e forzata lievemente la serratura. A questo punto andremo con uno tensile tipo questo a muovere tutti i vari cilindretti fino a farli arrivare alla giusta posizione. Fatto questo, praticamente la serratura si muoverà di qualche decimo di grado. Ci vuole poi una certa sensibilità per rendersi conto di quando abbiamo spinto uno di questi tanti cilindretti fino al punto giusto. Sembrerà una cosa difficile. Questo è un lucchetto nuovo che abbiamo comprato una settimana fa, della Iale, quindi anche un lucchetto di marca. ma rimangono molti sorpresi da quanto sia facile aprire un lucchetto. Utilizziamo ad esempio questo utensile qui che si chiama half diamond, cioè un mezzo diamante. Con questo tensore teniamo semplicemente appoggiata la serratura. andiamo sul cilindretto in fondo perché forzando qui questa sarà la parte che sarà soggetta a maggior appoggio e facciamo semplicemente questo lavoro. Andiamo a cercare cilindretto per cilindretto il punto, ecco avete sentito forse un click Eccolo qua. Abbiamo aperto la serratura. Questo lavoro normalmente l'utensile corretto per fare questo lavoro è questo che ci permette di appunto agganciare proprio la punta di ogni di ogni cilindretto. Un'altra tecnica così chiamata zipping prevede di inserire un utensile sempre come questo o così appoggiandosi a tutti i cilindretti spingendoli tutti dentro e poi estraendo rapidamente l'utensile in questo modo qui quando le molle spingeranno fuori i cilindretti avranno un attimino di tempo in più per soffermarsi in questa fessura fra i due cilindri e quindi si bloccheranno tutti rapidamente nella posizione corretta e si riesce a sbloccare. è una tecnica che richiede molta pratica o altrimenti tenendo la punta verso l'alto si farà scorrere due o tre volte fino a trovare tutte le posizioni corrette quindi semplicemente così ecco qua e l'abbiamo aperto. la stessa tecnica applicabile ovviamente su tutti questi tipi di serrature quindi lucchetti le serrature delle porte quelle che si possono aprire da un lato e dall'altro e vorremmo innanzitutto ringraziarvi per tutte le donazioni che gentilmente ci fate con cui utilizziamo compriamo sempre materiali ed attrezzi per i nostri video e abbiamo comprato questa fresa dal carburo di tungsteno che è fantastica e abbiamo aperto per voi questo lucchetto per far vedere tutte le parti all'interno quindi qui abbiamo appunto uno e due i due cilindretti possiamo anche muoverli dall'interno con questo attrezzo vedete che praticamente sono allineati poco più in là quindi esatto qui sarebbero allineati stessa cosa anche per gli altri ruotando la serratura questo particolare questa molla qui che è quella che tiene ferma l'archetto tramite questa scanalatura verrà indietro e consentirà l'apertura del lucchetto uno dei miti da sfattare è questo forellino qua tanti dicono che infilando un attrezzo qui dentro e spingendo forte si apre il lucchetto non è assolutamente vero il trucco lo svegliamo noi questo forellino qui serve semplicemente perché lasciando il lucchetto all'aperto entrerebbe dell'acqua qui dentro e da qui si può tranquillamente svuotare il lucchetto in più serve anche a lubrificare se vogliamo la molla all'interno che sui lucchetti di buona qualità è fatta in acciaio insidabile quindi non dovrebbe avere questo tipo di problema un altro metodo che possiamo utilizzare per aprire i lucchetti ora non siamo riusciti a trovare una lattina di acciaio inox cioè una lattina di acciaio perché c'è stato un periodo in cui l'alluminio costava troppo e quindi sono state prodotte delle lattine in acciaio comunque basterebbe anche un sottilissimo lamierino di acciaio facendo un attrezzo di questo tipo è possibile ripiegarlo infilarlo qui dentro in questo questa è sempre una tolleranza che viene data al lucchetto per evitare che appunto una minima deformazione dovuta al lucchetto esposto al sole o cose del genere possano andare a bloccare le parti meccaniche ruotando questo lamierino qui si va praticamente a fare un'azione semplicissima a spingere questa levetta all'indietro che vedete si muove all'indietro su tutti i lucchetti non è questo qui che è stato modificato si muove all'indietro su tutti i lucchetti perché è tenuta spinta semplicemente una molla e quindi si riesce a sganciare come dicevamo questo qui è un kit professionale che serviva appunto per tutte le serrature europee anche di automobili infatti qua abbiamo altri attrezzi poi anche per le serrature di automobili e poi è diventato praticamente uno sport americano e quindi adesso troviamo in vendita questi fantastici kit da scassinatori o da sportivi come vogliamo meglio definirli che prevedono tutta una serie di tensori il tensore ricordiamo che appunto è questa molla qui che ci permette di tenere in tensione nella serratura ognuno poi in base alla propria mano preferisce utilizzare un tipo l'altro e l'altro e addirittura esistono dei lucchetti da allenamento e delle serrature da allenamento che sono trasparenti e ci permettono quindi di vedere quello che stiamo facendo per imparare queste tecniche vedete in questo modo riusciamo a muovere i cilindretti è fornita addirittura poi di un manueletto di istruzioni che spiega le varie tecniche e ci sono particolari interessanti anche su come sono costruite le serrature per fare in modo che questo tipo di tecnica non venisse applicata e alcune ditte di serrature hanno costruito questi accrocchi particolari hanno quindi creato delle scanalature all'interno dei cilindretti in modo da creare dei finti agganci in questo modo qui lo scassinatore ha la sensazione che il cilindretto sia arrivato nella posizione giusta in realtà questo rimarrà bloccato impedirà l'apertura comunque una persona esperta poi riesce a aprire ogni singolo tipo di serratura questo kit qui che vi abbiamo fatto vedere lo abbiamo acquistato anche questo su Amazon e se vi interessa divertirvi imparare questa tecnica che potrebbe essere anche utile se rimanete chiusi fuori dalla vostra casa e non volete distruggere la serratura di casa vostra che magari sarà anche abbastanza costosa si può utilizzare questo ad esempio come è fatto un cilindretto di quelli con la chiave rotonda e niente questi sono due attrezzi che ci siamo costruiti noi perché una volta che si ha un kit di questo tipo si può prendere una lama da seghetto si disegna la forma giusta e si riesce a riprodurre l'oggetto in questione lo spessore è sempre quello e vengono di solito utilizzate le astine dei targi cristalli o queste astine qui di metallo per costruire i tensori niente speriamo di avervi incuriositi qui abbiamo la nostra nuova maglietta con il nostro logo e anche questa la potrete trovare eventualmente nella descrizione del link abbiamo cercato di metterci tutti i nostri interessi le fiamme che sono quasi presenti in tutti i nostri video la chimica questo è il simbolo dell'ampero un amperometro all'interno della O di Chaos c'è il simbolo il trifoglio radiattivo che rappresenta un po' tutto l'ambito della fisica l'alta tensione questo è un riscaldatore induzione un po' stilizzato l'antenna per ricordare tutti i nostri esperimenti con la radiofrequenza la meccanica anche questa sempre presente e noi siamo la leggenda bella ragazzi bella ragazzi grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri grazie a tutti i nostri Grazie.